Ciao a tutti e ciao a tutte. Come state? Spero che vada tutto meravigliosamente bene. Bentornati o benvenuti in un nuovo video ASMR. Quello di oggi sarà un video estremamente semplice, ma potenzialmente anche estremamente tingly, triggeroso, vividoso. Perché oggi ho deciso di portare qualcosa che non porto spessissimo. Intanto sentite sottofondo il rumore, il suono della candela. In questa atmosfera molto pagata voglio portare un quarto d'ora semplice, semplice, di tapping su diverse superfici. Spero vi possa piacere. Vi invito, come sempre, a immaginare di mettere in pausa il mondo e accogliere questi suoni molto, molto, molto ovattati. Ovatati. Grazie. 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 Quanto duro anche il tapping line. Eccoci, eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci. Eccoci. Eccoci, eccoci. 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 Grazie a tutti. 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 E il bonus finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cari ragazzi e cari ragazze, spero di avervi fatto rilassare. Avevo troppa voglia di fare un video così, di provare un video così. Vi auguro una buonanotte. E ci vediamo probabilmente con la conclusione del manga ASMR. Un bacio grande. fate...